Scelta scelerata del Governo nazionale che divide l'Italia e in particolar modo affonda la regione Abruzzo e tutto il meridione d'Italia. Parliamo di autonomia differenziata, ci fa piacere oggi ospitare il senatore Alfieri poiché dall'Abruzzo parte questa grande battaglia di raccolta firme per arrivare al referendum abrogrativo. Questa proposta di legge passata in Parlamento è davvero una scelta molto peggiorativa per le condizioni della sanità, dei trasporti e dell'istruzione a cominciare dall'Abruzzo. Abbiamo ammirato molto il senso di responsabilità di alcuni governatori del Sud, dalla Calabria alla Basilicata che hanno detto no a questa scelta della Meloni. Invece qui in Abruzzo abbiamo visto con molto molto dispiacere l'atteggiamento di Marsilio che ha immediatamente detto sì a questa scelta scelerata di Meloni e della Lega.